Certo che devi essere messo proprio male se la notte di Natale guardi un tizio che mangia del pollo con le patate Magari semplicemente non ti piace il Natale ed ora stai guardando questo video Oppure semplicemente stai passando questa festa in ospedale e non sai cosa fare Forse semplicemente qualche giorno fa lei o lui ti ha lasciato Ed ora questa dannata festa ti sembra così dannatamente inutile Ora che lui o lei non c'è più Il Natale Mi varrebbe da cantare il Natale viene di notte con le scarpe tutte rotte Ah no quella è la befana che porta i carboni ai bambini cattivi Sì sei solo un bambino cattivo che non vuole stare in mezzo alla gente E continua a guardare questo tizio che mangia del pollo con le patate E' molto probabile che qualcuno ti abbia detto un giorno che a Natale siamo tutti più buoni Ma tutto il resto dell'anno cosa siamo? Mettere delle palle su un albero ti rende più buono? E ricorda che se non riesci a trovare il Natale nel tuo cuore Non potrai trovarlo sicuramente sotto un albero Auguri a chi non aspetta il Natale per essere migliore Ma una cosa ve la voglio dire Questo pollo è veramente veramente buono E' molto più buono E' molto più buono Grazie a tutti